Dal tavolo al mise su Micron non abbiamo ottenuto le risposte che cercavamo anche perché i vertici italiani del gruppo hanno dichiarato di avere poteri esecutive e gestionali limitati in quanto attendono le decisioni della casa madre. Lo dichiara il vice segretario nazionale dell'UGL Metal Meccanici Luca Vecchio al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico svoltosi oggi sul futuro del gruppo in Italia aggiungendo che sono troppi gli elementi che ci spingono a preoccuparci per gli stabilimenti italiani e in particolar modo per quello di Catania perché ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte di lavoratori che dicono di avere concrete ragioni di temere per il proprio posto. Pertanto manterremo lo stato di agitazione e la prossima settimana si terrà una riunione delle RSU della fabbrica siciliana per decidere eventuali azioni di protesta contro un silenzio troppo prolungato da parte del gruppo. Non vorremmo infatti trovarci di fronte a decisioni unilaterali. Chiediamo risposte chiare e urgenti in sede istituzionale per poter rispondere alle numerose preoccupazioni dei lavoratori che fanno già i conti con la crisi drammatica del territorio e per poterli rappresentare e tutelare al meglio.